Ed è con grande piacere che vi offriamo anche oggi il privilegio di ascoltare una delle persone che sono più a conoscenza di come va il mondo da un punto di vista della frontiera dei diritti umani. Lo ringraziamo per essere qui ma soprattutto per il suo lavoro e per il lavoro di Amnesty International. Questo è Riccardo Nuri già collegato con noi puntualissimo come sempre. Davvero grazie anche per questo privilegio oggi. Buongiorno Riccardo. Buongiorno Riccardo, ben trovato. Grazie, buongiorno a voi. L'emergenza che nelle prossime ore dovrai affrontare, quale sarà? C'è da scegliere, anzi non si può scegliere, bisogna cercare di stare appresso a tutte. Naturalmente l'area del mondo più colpita da una serie di crisi che potenzialmente tendono ad allargarsi, il Medio Oriente con quasi sei mesi ormai di guerra tra Israele e Hamas, con rischi di ampliamento del conflitto, con un anniversario che abbiamo dimenticato, ma siamo entrati nel decimo anno di una crisi spaventosa, quella dello Yemen. E poi di che altro vogliamo parlare? Dell'annuncio dei talebani in Afghanistan di riprendere a lapidare, cioè uccidere a colpi di pietra le donne accusate di adulterio. Quindi sono un po' queste le crisi principali. L'Africa con tutti i suoi conflitti, è l'anniversario del genocidio del Ruanda che è accaduto 30 anni fa, 800 mila morti almeno in 100 giorni e quel paese ancora ha bisogno di giustizia nonostante si sia tirato fuori da una situazione spaventosa. Avete sentito dunque? Lo scenario non è particolarmente confortante, ma proprio per questo è giusto tenere sempre alto il livello di attenzione, soprattutto in una giornata particolare come quella di oggi, la giornata mondiale contro le mine. Caro Riccardo, andrei ad aprire la scheda della nostra pagina di storia per aprire su questo argomento. Quindi chiederei alla regia di inviare un giorno una storia. 4 aprile, giornata internazionale contro le mine. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel dicembre 2005 ha dichiarato il 4 aprile giornata internazionale per la consapevolezza e l'assistenza nell'azione contro le mine. Dal 1997 lo specifico servizio Unmas lavora per eliminare la minaccia rappresentata da mine e residui esplosivi di ogni tipo, coordinando l'azione delle Nazioni Unite, guidando le risposte operative con specifici standard, politiche e norme e sostenendo i singoli stati nell'applicarli. In quanto servizio specializzato dell'ONU, situato all'interno del Dipartimento per le Operazioni di Pace, l'Unmas opera in base ai mandati legislativi sia dell'Assemblea Generale che del Consiglio di Sicurezza. Per oltre 20 anni il lavoro del Servizio di Azione contro le mine è stato guidato dai bisogni delle persone colpite e adattato alla minaccia di pericoli esplosivi affrontati da civili, forze di pace e operatori umanitari. L'Unmas opera per salvare vite, facilitare emissioni delle Nazioni Unite e assistenza umanitaria, proteggere i civili, consentire attività di recupero e sostenere i diritti umani. In Italia la campagna Se piovono bombe gli ombrelli non bastano è stata lanciata per ribadire la necessità di bandire l'uso di mine e munizioni cluster, bombe a grappolo, in ogni guerra e da parte di chiunque. Queste armi hanno effetti indiscriminati e disumani, provocano atroci sofferenze in chi sopravvive e restano letali anche in tempo di pace, impedendo il ritorno in sicurezza dei profughi e rendendo difficile la ricostruzione al termine dei conflitti. Mentre ascoltavo questa scheda, Maria Pia, riflettevo sul contrasto enorme che c'è tra la primavera che è appena iniziata, il risveglio della natura, la bellezza del creato, contro la capacità dell'uomo, quasi l'abnegazione che ha l'uomo nel distruggere quanto di bello ci circonda. Sì, a volte sembra un sentimento particolarmente perverso, quello che è alla base di tanti di quegli orrori che tu ci riepilogavi, Riccardo. Un breve commento, almeno su questo aspetto delle mine. Forse è una minore emergenza, forse davvero è almeno quello un problema che abbiamo saputo quasi risolvere? Non ancora, anche se certamente sono stati fatti passi avanti da due punti di vista. Intanto la normativa internazionale, perché oggi sia le mine antipersona che le bombe a grappolo sono vietate da apposite convenzioni, poi il problema è che chi non le ratifica continua a usarle e non ci sono strumenti per obbligare stati che non hanno firmato convenzioni ad adattarsi al loro contenuto. Va avanti anche la capacità di sminare con tecniche moderne, ho visto nel vostro servizio i droni, altre macchine. Io ricordo nel 1988 quando Saddam Hussein, presidente iracheno, lanciò una campagna genocidaria contro la popolazione kurda del suo paese a colpi di gas tossici, ma soprattutto di mine antipersona. Lì i droni non c'erano, non c'erano neanche altri strumenti. Come fecero i kurdi a sminare i campi? Mandarono nei campi gli ovini. Ci furono milioni di ovini, pecore, uccise dai sacrificate per poter poi tornare ai suoi campi e coltivarli, perché ricordiamoci che in molti casi queste mine non esplodono, rimangono lì e rendono impossibili le coltivazioni, le persone ci saltano in aria, soprattutto i bambini che non hanno conoscenza di cosa si tratta. Quindi fanno danni nel lungo periodo, però oggi abbiamo delle tecniche e forse anche migliori fonti di finanziamento per liberare i luoghi ancora contaminati da queste mine, da questo pericolo. Io mi ricordo che eravamo ragazzi, Maria Pia, in parrocchia quando portavamo avanti queste campagne contro le mine, quindi insomma fa piacere sapere che qualcosa si è mosso anche se non bisogna, come dicevamo prima, mai abbassare la guardia perché c'è ancora tanto da fare su questo fronte. Sicuramente è bello formarsi su queste cose e voi fate anche questo come ottimo lavoro, cercare comunque di instillare nelle nuove generazioni la voglia non solo di firmare per le singole campagne. Io vi ho conosciuto perché appunto un amico quando ero ragazzina disse anche se non abbiamo l'età, cerchiamo di mandare le nostre firme per salvare in quel caso un condannato a morte negli States con il quale poi è continuata la corrispondenza. Ora Riccardo, senza restare troppo ai nostri ricordi, vorrei chiederti questa campagna appunto di salvare almeno i civili che abbiamo in primo piano, abbiamo appena visto sul sito amnesty.it poi naturalmente ne trovate tante anche su amnesty.org sta dando i suoi frutti, è ancora il sistema della firma quello più utile o quando siamo davanti a tragedie così enormi in poco tempo più di 32 mila vittime nella striscia di Gaza appunto in quattro mesi. Forse le firme sono troppo poco. Bisogna fare tante cose insieme, firmare gli appelli perché alla fine di una campagna se sul tavolo di un governo delle Nazioni Unite arrivano 10 mila o 10 milioni di firme fanno una differenza ovviamente. Bisogna donare alle organizzazioni che si occupano della salvezza dei civili quelle che promuovono campagne, quelli che portano aiuti quelle che cercano di curare quelle che promuovono la giustizia internazionale perché noi dobbiamo ricordarci che se in ogni conflitto i civili pagano il prezzo più alto è perché chi dirige i conflitti non è portato di fronte alla giustizia. Abbiamo la Corte Penale Internazionale che è uno strumento che ci siamo dati 25 anni fa per punire i responsabili di crimini di diritto internazionale genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra che sono tutti crimini che sono compiuti contro i civili e utilizziamoli. Nella guerra della Russia contro l'Ucraina è stato indagato e poi raggiunto da un mandato d'arresto il Presidente Putin individuato come responsabile di crimini contro i civili. Bisogna fare così anche altrove e soprattutto nel caso specifico del Medio Oriente quello che è inevitabile, necessario non si può fare diversamente è un cessato il fuoco immediato perché i civili si salvano così gli ostaggi israeliani tornano in libertà così gli aiuti possono arrivare così non c'è un'altra soluzione. Tu hai scritto attraverso il tuo blog sul Fatto Quotidiano anche di Yemen perché noi abbiamo un po' le idee confuse su questi auti. Ci puoi spiegare qui come vanno le cose? Cioè se ci dobbiamo aspettare un fronte che sta peggiorando oppure viceversa? Il rischio è che peggiori, sì. Dobbiamo fare un veloce passo indietro. Nelle primavere arabe del 2011 anche in Yemen arrivano e depongono il Presidente Saleh che era al potere da 33 anni però lui rimane un attore all'interno del paese perché negozia la sua impunità in cambio della rinuncia al potere e arrivano nuovi attori tra cui questo gruppo armato chiamato Houthi che pratica un Islam che è molto vicino allo sciismo iraniano e che poi questa compatibilità religiosa produrrà anche un sostegno politico e militare gli Houthi prendono il potere nella capitale Sana'a nel 2014 un anno dopo inizia una campagna militare portata avanti dall'Arabia Saudita dagli Emirati Arabi Uniti da altri che ricevono armi dall'Occidente per togliere di mezzo gli Houthi non ci sono riusciti del tutto quello che sono riusciti a fare è un massacro di civili con il 90% della popolazione che ha la fame con crimini di guerra compiuti colpendo asili banchetti nuziali autobus, infrastrutture aiuti che non arrivano porti bloccati ora qualche negoziato ha prodotto una sostanziale diminuzione delle osterità ma cosa è successo? che gli Houthi si sono schierati in favore di Hamas contro Israele nel conflitto che è in corso del 7 ottobre e hanno tentato o tentano di bloccare il traffico mercantile nel Mar Rosso questo ha significato che una coalizione diciamo di scorta armata occidentale in cui c'è anche l'Italia sta pattugliando il Mar Rosso ogni tanto quando gli Houthi provano ad attaccare questa coalizione replica e il rischio che finché colpisce un drone iemenita finché colpisce un missile iemenita va bene se poi il conflitto si allarga e di nuovo coinvolge la popolazione civile dello Yemen è un disastro grazie Riccardo grazie per la tua disponibilità per essere stato con noi anche oggi noi invitiamo i nostri amici telespettatori a seguire Amnesty International a seguire il tuo blog per restare sempre costantemente aggiornati su questi temi e sì oltre a ringraziare caro Riccardo penso che ci sarà modo di risentirci perché a proposito di ricordi anche di giovinezza quando ho visto che siamo già a 40 anni cioè anniversario rotondo dalla tragedia di Bhopal che ci dà un profilo completamente diverso del modo di calpestare i diritti umani rispetto a quello che abbiamo detto finora cioè in questo caso è un'impresa è una appunto fabbrica che ha provocato migliaia e migliaia di morti ma che soprattutto ancora non ha nemmeno cominciato a risarcire quindi Riccardo parleremo anche di questo scandalo vero e proprio più avanti se sei d'accordo sicuramente l'anniversario non scade no no abbiamo mesi davanti quindi possiamo parlarne è importante parlarne certo quindi grazie eh sì anche perché caro Tony ricordiamo l'India come luogo meraviglioso di tanti contrasti quindi non possiamo che cercare di valorizzare chi cerca appunto di portare maggiori diritti umani anche lì il nostro ospite ci può lasciare so che è lunga la lista degli altri collegamenti da fare quindi ancora grazie grazie Tony grazie a voi anche a te per il supporto e naturalmente tra poco torneremo a un'altra emergenza tutta italiana quella della sanità grazie a tutti